intervista nel prato seconda siamo qui oggi con il signor signore il venditore di incitiz mi dica come ha cominciato quest'attività ma nel momento in cui mi sono seduto su una panchina ci spieghi come avviene esattamente il suo lavoro un mestiere che prima non stavo mai fermo e ho deciso di stare fermo e ne stava sufficiente sono accorto che respirare io sto vedendo quella e mi sto chiedendo quanta gente sta guardando e con me ci saranno dei musicisti un pianista un saxofonista una cantante ci sarà una che mi aiuterà vedi che sei arrivato al punto il punto è